La provincia di Belluno avvia le procedure di richiesta di accesso agli atti per ottenere ogni dettaglio utile sul progetto della diga del Vanoi. La posizione di Palazzo Piloni, come spiega il consigliere delegato all'ambiente Simone Deola, è fermamente contraria alla realizzazione dell'opera. A ottobre, ricorda, è stato deliberato un ordine del giorno in cui il Consiglio esprime profonda preoccupazione per l'incolumità degli abitanti posti a Valle dell'Invaso in progetto, che insiste su aree ad alto rischio idrogeologico, unita alla preoccupazione di compromettere in via definitiva uno dei pochi siti naturali ancora integri. Il bacino artificiale è stato proposto dal Consorzio di Bonifica Brenta come riserva a cui attingere in caso di siccità, ma Palazzo Piloni ha rimarcato a più riprese come occorra invece investire per ridurre il tasso di dispersione dei sistemi di irrigazione. La richiesta di accesso agli atti segue quella rivelatasi infruttuosa del versante trentino. Il deniego di accesso dato alla provincia autonoma di Trento, commenta Deola, è un elemento di preoccupazione. Non possiamo pensare che le dinamiche di interesse economico mettano a repentaglio la sicurezza delle persone, l'integrità dei territori e dell'ambiente. Chiedo che sul tema prendano posizione palese il Presidente della Regione Veneto e l'assessore regionale all'ambiente.